La biografia di Orazio, quinto Orazio Flacco. Nasce nel 65 a Venosa, che è una località dell'attuale Basilicata. Il padre era un liberto e la sua famiglia era di condizione modesta, però possiede una piccola proprietà a Venosa. Il padre vuole che Orazio abbia una buona educazione e quindi da questo punto di vista fa un percorso di studi regolare e anche frequenta delle ottime scuole. Tant'è vero che ad un certo punto il padre si trasferisce a Roma perché lavora come esattore nelle vendite all'asta e permetterà al suo figlio di frequentare la scuola di Orbilio, un illustre maestro dell'epoca, che lo stesso Orazio definisce Plagosus, perché i sistemi scolastici all'epoca erano un po' diversi da quelli di oggi e questo maestro di scuola, questo insegnante, bacchettava con la verga, con la bacchetta, i propri studenti e quindi ecco lo chiama Plagosus perché appunto provocava delle ferite, delle piaghe nei suoi allievi. Bene, va a studiare, va ad approfondire i suoi studi anche in Grecia, era un'abitudine dei romani, delle migliori famiglie, ma anche il padre di Orazio permette al figlio di andare a completare i suoi studi in Grecia e in particolare va ad Atene dove approfondisce gli studi filosofici. Siamo più o meno attorno al 45 avanti Cristo, ma quando è in Grecia ad Atene viene coinvolto dagli ideali politici dell'esercito di Bruto, cioè dai cosiddetti cesaricidi, dai cosiddetti repubblicani, che promuovevano ideali di libertas, gli ideali dell'antica repubblica romana da contrapporre ovviamente a chi in qualche modo si temeva volesse in qualche modo tradire questi ideali repubblicani. Quindi è nemico di Augusto, nemico di Marco Antonio. Infatti lui si arruola nell'esercito di Bruto e che si stava organizzando proprio in Grecia per affrontare lo scontro finale con Ottaviano e con Marco Antonio. Infatti nel 42 c'è la famosa battaglia di Filippi alla quale lo stesso Razio partecipa ed è dalla parte sbagliata, nel senso che è dalla parte degli sconfitti. E lui ci racconta, è anche piuttosto autoironico Razio nelle sue poesie, insomma dice che è fuggito ad un certo punto, ha abbandonato vigliacamente diciamo così, lo scudo. Questo aver preso parte contro Ottaviano e Marco Antonio chiaramente gli provoca tutta una serie di fastidi, di problemi, ha tutta una serie di conseguenze. Infatti nel 41 gli viene permesso di tornare a Roma grazie ad un'amnistia, però perde ad esempio il suo fondo di Venosa, la sua proprietà e quindi lavora come scriva a Roma, come scriva, come scrivano, come impiegato. Però comincia anche a scrivere versi ed entra in contatto con diversi poeti eletterati. In particolare nel 38 lo stesso Virgilio e Vario lo presentano a Mecenate e l'anno successivo entra nel famoso circolo di Mecenate. Quindi viene apprezzato per le sue qualità di poeta, indipendentemente dal fatto che aveva combattuto contro Augusto e viene accolto all'interno di questo circolo. Infatti Mecenate lo gratifica addirittura donandogli un podere nella campagna Sabina, dove Orazio spesso si ritirava perché amava la pace, la serenità della campagna piuttosto che la vita, tra virgolette, frenetica che si viveva a Roma con tutti gli impegni che comportava. Lui faceva lo scrivano, aveva diversi impegni di lavoro. Bene, nel 33 pubblica il primo libro delle satire. aveva già pubblicato gli epodi, la sua prima opera, e grazie infatti ai primi componimenti era stato conosciuto e riconosciuto un valido poeta da Mecenate. Nel 33 pubblica una delle sue opere più famose che sono appunto le satire, il primo libro delle satire. E diventa sempre più amico di Mecenate al punto che i due in pratica diventano amici fraterni. E diventa anche conoscente ma amico, insomma comunque entra in rapporti di cordialità abbastanza stretta con Augusto. Addirittura Augusto gli propone di diventare suo segretario personale, ma Orazio declina l'invito. E questo è significativo perché indica che non aveva un atteggiamento servile nei confronti di chi lo proteggeva, nei confronti di chi non lo aveva punito per avere combattuto contro di lui. Gli aveva permesso di entrare nel circolo di Mecenate e grazie a Mecenate aveva avuto appunto anche in dono questa casa nella campagna sabina. Però ecco declina, si permette di declinare l'invito di Augusto e quindi questo appunto testimonia un atteggiamento non servile. Poi vedremo chiaramente che Orazio per molti aspetti condivide almeno in parte l'ideologia di Augusto e quindi partecipa anche lui in qualche modo a questa propaganda di determinati ideali, però in linea di massima non si dimostra servile. Comunque, come dicevamo, è in rapporti di amicizia molto stretta con Mecenate e infatti i due sono legati da questo destino che questa amicizia durerà per tutta la vita e muoiono lo stesso anno, cioè nell'otto avanti Cristo muoiono sia Mecenate che Poeta, che è uno dei più grandi poeti dell'epoca classica latina.